buongiorno buongiorno adesso vi faccio sentire un po di musica al ritmo come ha giocato l'inter il primo tempo io vi faccio vedere e non ci sono parole per descrivere il primo tempo dell'inter domenica è stato così è stato così avvolgente così coinvolgente perché mi ha coinvolto ha coinvolto a me ha coinvolto mia moglie mia figlia il gatto il cane quindi io vi voglio fare sentire come senza giri di parole perché noi siamo qui a no vi faccio sentire proprio come 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 proprio ed è cominciato così il primo tempo no la 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 La, 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 la... 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 La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, la, la...